Ciao a tutti cari e care! Allora, questo è il mio quarto video per la Blonde Series. Cosa è successo? Ovviamente mi sono stati richiesti molti trucchi con l'eyeliner, ergo dovevo farlo, poi figurarsi con le bionde l'eyeliner sta molto bene, soprattutto nero, soprattutto scuro. Nel momento questa è la mia proposta, praticamente ho usato un rosa, un rosa antico, un eyeliner nero, molto preciso, come potete vedere, non tanto grosso ma molto preciso e un bel rossetto scuro perché io amo l'eyeliner con il rossetto scuro. Niente, in questo video vi darò anche dei consigli per quanto io possa sapere, però comunque con un po' di esperienza, nel senso che mi sono messa eyeliner un sacco di volte, dopo un po' magari ho anche imparato, su come dare l'eyeliner. Niente, spero vi interesse, spero vi piaccia, se vi piace questo video per non perdervi i prossimi iscrivetevi, ciao a tutti da Erika. E se vi interessa il tutorial lo guardate altrimenti no. Allora, iniziamo dalle sopracciglia. Che cosa succede? Siccome quando noi facciamo un trucco con un eyeliner al tratto preciso o comunque un trucco che vuole dare l'idea della precisione, diciamo così, dobbiamo essere precisi un po' in tutto perché se è preciso solamente l'eyeliner e poi in giro siamo un po' messe male, non va più di tanto bene. Quindi io vado, di solito non lo faccio perché ho le sopracciglia chiare, però adesso vado un attimo a enfatizzarle, diciamo. Ovviamente non posso darci del marrone perché sennò sembro una bionda finta, che lo sono, ma non ditelo in giro. Comunque non è vero, sono castanacchiere in realtà. Allora faccio un mix di un marroncino scuretto schiarendolo un attimino con questo qui. Vedete, faccio un mix di questo e questo qui. E allora procediamo. Ecco fatto. Vedete che ovviamente non c'è questa grandissima definizione, però comunque ci dà più l'idea di ordine, diciamo. Allora, adesso vado a prendere sempre dalla Nudes Palette, quella dove ho preso prima i due marroncini. Questo colore qui, che è una sorta di rosa antico abbastanza scurettino, diciamo. Comunque adesso lo vedrete. Lo andiamo ad applicare in maniera abbastanza random su tutta la palpebra mobile. Questo è un colore che alle bionde sta benissimo. Mi dispiace, cari amiche amore, so che di solito dico, tutto quello che mi metta addosso potete metterlo anche voi. Però questo qui mi piace tantissimo, soprattutto sulle bionde. Forse le molle, diciamo, le smorza un po' di luce. Invece sulle bionde fa proprio un bel effetto. Nel senso che questo è il colore per le bionde, a parer mio, dopo il nero, perché il nero è nostro. Molto bene. Dopo aver applicato questo colore, ovviamente con uno sfumino, andiamo un attimo a sfumarne i contorni. Dopodiché, stesso pennello che pulisco su un fazzolettino, vado a prendere il marroncino. Un marroncino così, sempre della Nude Palette. Faccio anche un po' un mix con questo. Ovviamente, adesso sto usando tutta la Nude Palette, perché boh, oggi mi va così. Però voi potete usare i colori che vi pare. Con un altro sfumino, sfumo un attimo i contorni. Ecco. Ah, e scusatemi, mi sono totalmente dimenticata di dirvi che bisognerebbe applicare una base prima. Scusate, non ve l'ho detta, l'avevo già applicata. E io ho applicato un correttore, chiaro? Ora possiamo dedicarci all'eyeliner. Prendo un eyeliner nero in gel. Allora consiglio, quelli liquidi sono decisamente difficili da usare, nel senso che collano, nel senso che collano decisamente di più di questi qui. Questo qui è di Froiline, c'è anche di MAC. Questi qui sono in crema e si asciugano subito dopo 5 minuti, diciamo. Infatti bisogna stare attenti a lasciarli aperti e darlo anche in velocità, abbastanza, diciamo. Quindi quelli liquidi sono decisamente più difficili da mettere. Collano di più e poi per l'appunto il tratto può sembrare le volte che non sia troppo preciso. Non uso un pennellino del genere perché praticamente quando devo fare un tratto preciso e non troppo grosso e lo voglio fare preciso, alle volte la punta mi va in su o in giù, insomma non viene proprio stra preciso. Per giochi proprio di precisione, se vogliamo essere precisissime, bisogna usare un pennellino del genere. Allora ho preso il mio eyeliner, intingendolo così. Se non sapete dove trovarli, allora penso che ci sia l'eyeliner nero della Shishado. Io che sono a Padova lo trovo alla Rinascente, però amo molto di più quello di Mech e quello di Froiline, che l'ho trovato sul sito di Froiline. Allora, io parto sempre da metà occhio, cercando di rimanere più attaccata alle ciglia possibile. Tanto si fa sempre ora ad ingrossarla alla linea. ovviamente deve essere molto più fino all'interno e poi molto più larga all'esterno. Ovviamente, qual è il segreto per l'eyeliner perfetto? Tante mi dite, io sto attenta, mi appoggio con la mano su un ripiano solido, però mi viene lo stesso zigzagata. Qual è il punto? Che non è la parte più vicina alle ciglia che bisogna fare dritta, perché alla fin fine non si vede, è la parte esterna, quella che bisogna fare più dritta. Quindi, quando io vado a fare una riga, poi che cosa faccio? Rintingo di nuovo il pennellino, ovviamente non con troppo prodotto. Lo intingo proprio così. E vado a darci una ripassata sopra, cerco di rimanere più ferma possibile, perché è quello che dà, è questa cosa qui che dà l'idea di precisione. Per esempio, guardate adesso, vedete che è un po' zigzagata, vedete qui che c'è un buchetto, lì che c'è un puntino. Adesso vado a ripassarci sopra, vedete la differenza? Cioè, in sostanza, che cosa faccio io praticamente? Prima faccio una linea bozza e poi sto molto più attenta, soprattutto verso l'esterno. Ora abbiamo fatto l'occhio. Dunque, la codina. Dovete vedere la fine delle vostre sopracciglia e darvi un'idea di cosa deve fare la codina. Vedete? Questa cerca di riprendere la fine delle sopracciglia, altrimenti sembra decisamente innaturale e abbastanza disordinato. Ergo, tentiamo di fare una cosa del genere. Ovviamente, con l'eyeliner dovete stare tranquille, ferme, non pensare adesso mi viene una schifezza, perché non è, altrimenti fate veramente schifezze. Non vi verrà perfetto la prima volta, c'è poco da fare, nemmeno a una make-up artist viene perfetto la prima volta, bisogna sempre ripassarlo un attimo. L'importante è non fare le righe così, se no, di cosa ripassi. Allora, mi do un'idea. Diciamo che questa potrebbe essere un'idea. E poi la vado a realizzare. Ovviamente deve essere più grossa qui e molto più fine. Adesso vi faccio vedere come farla fine. Praticamente qui potete usare anche il corpo del pennello proprio. Mentre qui in fondo, per farla fine, dovete usare solamente la punta del pennello e lasciarla sempre di più, così la riga viene sempre più fine. abbiamo rimaste qui. Ovviamente, praticamente, voi dovete anche chiudere l'occhio e vedere se vi piace anche l'eyeliner da occhio chiuso. Cercate di... non di fare così e dire oh, non mi piace... no. Cercate di chiudere in maniera abbastanza naturale, più che riuscite, e di guardarvi. Allora, qui manca un po' di eyeliner, qui. E il nostro eyeliner è fatto. Adesso vado ad applicare il mascara. Ci vediamo tra un po'. Ok, direi che ci siamo. Ho messo per l'appunto il mascara e volevo dirvi, concentratevi molto di più quando mettete l'eyeliner, quando indossate l'eyeliner, sulle parti, sulla parte centrale delle sopra... delle... Madonna, ma come parlo oggi, scusatemi? Della parte centrale delle ciglia e interna, perché con la nostra bella codina non è che più di tanto si vedranno queste ciglia qui, anche se ovviamente le dovete andare a fare. E poi qui sotto, mettetelo... si può andare anche senza mascara sotto. Comunque, se volete, ne mettete un pochino, ma soprattutto sull'angolo esterno, perché con l'eyeliner, per l'appunto, dobbiamo sempre dare un'idea di allungamento dell'occhio. Allora, io adesso ho anche già applicato il mio rossetto e vi consiglio... io amo i rossetti scuri con l'eyeliner, di conseguenza questo qui, di Kiko. Questo qui... questo... che è il numero 388 Creamy Lipstick. È bellissimo e... E come blush, per essere un po' più sbarazzina, diciamo, perché abbiamo usato anche il rosa, vado per l'appunto ad usare un rosa. Questo è il Well Dressed di MAC. Non esageriamo. E anche dell'illuminante. Io uso sempre un illuminante rosa ed è sempre di Kiko, è il numero 6. Dimenticavo di dirvi, se con il fatto che avete tirato la pelle qui per fare l'eyeliner, io cosa ho fatto? Ho preso una spugnetta di queste, che sono quelle fatte così, ci metto un pochino di correttore sopra e vado a ripulire la zona e magari anche a definirla ulteriormente. per quello che ho fatto anche di qui. Perché se siete biondi e avete la pelle chiara e delicata, magari si era già arrossato un pochino. Niente, questa è un'altra delle mie proposte per noi blondes. Spero che vi sia piaciuta. Ciao a tutti da Erika.